Bene, benvenuti, siamo in Maintest e stiamo vedendo adesso un piccolissimo circuito già fatto, che usa, come vedete, questi sono dei nodi di una mod che si chiama DigiLines e sono diversi dai nodi che abbiamo studiato nell'ultima volta, i nodi MeseCons che abbiamo visto, i nodi MeseCons, ve lo ricordo, sono caratterizzati da avere questo simbolo verde, quindi tipo rame, quindi lo possiamo mettere no, aspettate ecco, mettiamo il rame per terra, vedete che il rame è giallo poi abbiamo visto che c'era la versione anche di rame ricoperto che era questo, Insulated MeseCons ce lo prendiamo qua ok, l'Insulated, che vuol dire isolato quindi un cavo che praticamente non si mischia con altri cavi e vedete che il cavo invece che stiamo usando adesso che è il cavo DigiLines è questo blu, blu, blu ora, quindi sono tre tipi di cavi questi qui sono i MeseCons e poi questi sono i cavi che connettono in modalità DigiLines ora, quello che vedremo questa volta è come usare un circuito DigiLines usando dei Lua Controllers vedete questo è un Lua Controllers, questo è un Lua Controllers con un Real Time Clock e con due video e su questi due video, quindi vedete che sono tutti collegati insieme adesso quello che ho realizzato è semplicemente un orologio digitale che vedete che dice l'ora attuale e in più a destra vedete che c'è un altro che invece mi sta dicendo un numero che in realtà è sempre l'ora ma è quello che vi ritorna l'altro integrato quindi tutto questo, perché questa lezione di oggi verterà appunto sulle DigiLines verterà sulle Lua Controllers e cercherà di scrivere come possiamo utilizzare e anche questi LCD vedete che questi LCD sono dei sistemi di visualizzazione dinamica, diversi quindi dai cartelli e che ci consentiranno di poter fare degli esperimenti di coding già assolutamente non banali quindi questo video è facoltativo per quelli che seguono il mio corso nel senso che alcuni di voi forse non vorranno approfondire argomenti di coding ma per quelli che lo volessero trovo che sia assolutamente essenziale vedere come funziona inoltre tutto questo discorso c'è tutta questa modalità di coding via DigiLines non esiste neanche questi controller non esistono in Minecraft e quindi è una modalità del tutto originale di Maintest oltretutto si chiama Lua perché usa il linguaggio di programmazione che si chiama Lua e quindi adesso lo vedremo in funzione ok però prima di partire usciamo un secondo torniamo al sistema operativo e andiamo solo a a discutere un momento di quello che sono le configurazioni che sono diciamo consigliabili per poter usare il per poter usare la programmazione il coding su Maintest in particolare quella importante è l'enable console questo consente a partenza del programma di vedere a fianco un terminale nero dove scorreranno eventuali messaggi di errore che sono molto molto utili qui vedete anche altre cose che ho messo ma direi che questo è il più importante giusto per curiosità TimeSpeed 24 fa andare alla velocità normale di Maintest TimeSpeed 0 permetterà di fermare il tempo all'interno di Maintest questo se per caso qualcuno volesse fare usare Maintest e non avere problemi di dover mettere sempre il giorno queste due opzioni le ho messe semplicemente per far scorrere in maniera smooth cioè molto delicata le scene e quindi sono ideali per fare i video se volete provare a ricopiarlo bene questo show the book non ho idea se serve o no ma per il momento lo teniamo comunque diciamo concentratevi su questo enable console allora lanciando il main il main test ok in realtà vedete che viene lanciata anche una finestra sottostante che capita su Windows viene lanciata soltanto se siete se avete impostato questa variabile sulle altre piattaforme suppongo che ci sia un'opzione meno console comunque lo confermerò e ve lo dirò meglio l'ho già provato adesso non mi viene in mente la differenza ma la cosa fondamentale è che quando entrate in main test il vostro mondo lo dovete configurare con una mod in più rispetto al mese cons che si chiama digilines digilines la trovate su la trovate nel solito modo cercate digilines e andate di conseguenza sul ecco cerchiamo digilines github e abbiamo il nostro mod aggiuntiva questa mod aggiuntiva possiamo scaricarla da qua clone e download zip vedete che abbiamo digilines master punto zip la si salva al solito è piccoletta e dentro abbiamo digilines master che suggerisco sempre di rinominarla digilines infatti io questa l'ho ricopiata da me sotto digilines ah no in questo caso l'ho lasciata proprio col suo nome digilines master e dentro ci sono tutte textures eccetera eccetera che permettono di lavorare quindi semplicemente potete fare così so che su mac il fatto di avere trattini o altri caratteri potrebbe creare problemi quindi nel caso gli cambiate nome dopo averla ricopiata sotto le mods rimuovendo il trattino o eventuali altri caratteri strani va bene allora una volta fatto ciò come ho detto prima vi accertate dentro il vostro dentro il vostro mondo che le configurazioni abbiano abilitato quindi sono verdi digilines e mese cons e a questo punto entriamo nel gioco e cominciamo a divertirci con le digilines bene allora per fare la digilines vediamo allora qui abbiamo questo circuito qua costruiamo un altro fianco e cominciamo con le cose semplici quindi cominceremo con un semplice quindi ci prendiamo un lua controller adesso vedremo bene lo colleghiamo usando un cavo digiline questo lo colleghiamo mettiamo due volte a un lcd ok quindi poniamo l'lcd perfetto ora l'lcd in realtà si deve vedere dall'altra parte quindi di qua come si fa a programmare a far comparire qualcosa su lcd lo vediamo un passo per volta quindi facciamo tasto destro su questo lcd e lui dice come mi chiamo io il canale gli mettiamo lo chiamiamo tv nome vale l'altro qualunque nome è importante basta che quando vogliamo far comparire qualcosa specifichiamo in un canale quindi send digiline e gli mettiamo il nome del canale quindi praticamente qui facciamo semplicemente un send vediamo un po' se ce la faccio non so se avete colto ho fatto tasto destro su questo lua controller e qui mi è comparso questa maschera dove c'è il programma in lua e il comando è send digiline e poi questo comando vuole due cose quindi vuole il nome del canale in questo caso tv e la cosa che voglio spedergli e gli diciamo ciao ok quindi send digiline tv ciao facciamo execute e quindi non è questa non è send digiline aspettate che vado a vedere qual è il comando giusto purtroppo qui non non si capisce non ricordo memoria prendo questo e vedo se ah digiline send ok come al solito mi sono ricordato l'opposto digiline send quindi andiamo facciamo digiline underscore send tv ciao ok facendo questa operazione non so se notate che qui è comparso sull'LCD esattamente ciao ok quindi questo è diciamo la prima premessa che permette di visualizzare qualcosa su un LCD semplicemente dandogli il nome ora qui io potrei mettere anche degli altri LCD quindi se noi mettiamo un secondo LCD magari un po' staccato ecco e quindi mettiamo un secondo LCD qua ecco lo piazziamo ora col tasto destro gli diamo un nome se per caso gli diamo lo stesso nome dell'altro LCD e rifacciamo ripartire con execute il nostro programmino quello che osserverete è che tutti i due televisori mostreranno la stessa scritta questo perché si chiamano uguali e la send generalmente manda sul canale che si chiama tv la stringa ciao se vogliamo se vogliamo invece avere due contenuti distinti su questo signore qua lo chiamiamo tv2 allora a questo punto quando facciamo il programma gli metteremo due comandi uno digiline send tv2 tv2 e poi televisore 2 se noi facciamo execute vedete che su uno dei televisori compare ciao e sull'altro compare televisore 2 questo è interessante perché perché si chiama digiline perché questo è un canale digitale in cui possono viaggiare innumerevoli segnali in pratica equivale proprio ai cavi complessi che ci sono e sono nel ventunesimo secolo quindi abbiamo un dispositivo fondamentale che è il televisore che permette di visualizzare un messaggio e abbiamo un programma che permette di mandare dei messaggi bene ora questa diciamo è la primissima cosa per mandare dei comandi cioè delle cose sul qua su ora vedremo allunghiamo questa cosa e a un'estremità quindi qua ci mettiamo un altro un altro controller come vedete questo controller è collegato al nostro circuito e possiamo dire a questo controller che se riceve qualche cosa su un su un canale quindi possiamo dirgli ecco il comando qua deve essere un pochino più complesso voglio dire if event type uguale uguale digiline questa qui è la sintassi poi la vediamo meglio quindi se ricevo un comando di digiline e se event punto channel uguale uguale notate il raddoppiamento e se ricevo un comando opportuno sul nome di un canale possiamo ricevere per dire che noi siamo lua quindi voglio dire usiamo il canale lua per parlare con questa lua facciamo then quindi allineiamo and e qui facciamo una cosa molto semplice quindi facciamo semplicemente print ricevuto messaggio punto punto e il serve per concatenare assieme e gli mettiamo event punto msg quindi questo cosa vuol dire che se sul canale digiline se riceviamo un evento di tipo digiline e il canale usato è lua tutto maiuscolo allora printerà cioè stamperà questo messaggio e vediamo se abbiamo fatto no quindi print non gli piace perché abbiamo dimenticato un then forse then ok quindi vuol dire che la print forse vuole le virgolette dalle parentesi e un po' ok gli è piaciuto quindi questo microcontroller si limita a fare delle print ora le print voi vi domanderete dove le vedo le print le print si vedono sostanzialmente in quella finestrella questa qua che compare a fianco del nostro apparecchietto quindi per far scattare questo sistema vedete che lui sta facendo una serie di mestieri perché sta funzionando il circuito che abbiamo di là ma dunque per interrompere quel circuito possiamo anche questo è il circuito possiamo provare a spegnerlo per spegnerlo gli togliamo gli togliamo tutte le connessioni ok quindi dovrebbe starsene zitto torniamo da noi televisore 1 televisore 2 qui abbiamo un programmino che ci dice se qualcuno parla su quella su quella linea e per farlo parlare dobbiamo andare su un'altra unità tipo questa tasto destro e qui gli diciamo di mandare un comando anche sulla digiline quella digiline send e abbiamo detto lua e gli mettiamo A gli mettiamo semplicemente una lettera A ora quello che mi aspetterei che qui magari possiamo anche cambiare 2 quindi ho cambiato queste tre righe facendo execute mi aspetterei che cambino i due televisori ma mi aspetterei anche che succeda qualcosa su questa console e infatti vediamo che c'è scritto ricevuto messaggio A ora ricevuto messaggio A non è bello così lo rifacciamo ecco e poi torniamo sull'altro pezzettino di coin e gli facciamo execute e vedete abbiamo ricevuto messaggio A bene allora come vedete quindi è possibile far parlare il nostro digiline di vari elementi fra di loro si possono mandare dei messaggi e si possono fare delle azioni nel senso che questo oggetto qua può una volta ricevuto il messaggio in realtà farlo vedere nel senso che può dire if event.msg uguale uguale a then and ecco diciamo port.a uguale not port.a questo cosa vuol dire che ogni volta che riceve il segnale A dovrebbe invertire lo stato della porta A vediamo se funziona quindi adesso cosa facciamo la porta A è quella su a destra vedete facciamo il reset e direi che non ha fatto ho l'acceso vediamo un po' mi sarei aspettato che avesse acceso la porta A facciamo time 0 no non direi che non è acceso quindi vediamo un po' cosa abbiamo fatto quindi digiline send l'UA gli mandiamo il messaggio A va bene che non ha funzionato e qua diciamo ah ecco perché dobbiamo metterci le virgolette quindi appiccetti appiccetti A a questo punto riprendiamo questo eseguiamo e come vedete si è acceso il la quindi a questo punto quello che può succedere è che se io avessi messo un mese cons qua e poi a sua volta qui ci fosse un un qualche cosa che si accende quindi ecco vedete che in questo caso si sarebbe acceso quindi per vedere se questo discorso funziona riproviamo a rimandare il messaggio di reset mettiamoci in modo da vedere meglio la scena tasto destro rimandiamo il nuovo A vedete che si è spento perché ogni volta che eseguo questo programma lui manda un messaggio A e questo conduce a questo elemento il fatto questo qui che ricevendo del messaggio A deve invertire lo stato della porta A e questo diciamo è soltanto un piccolissimo esempio ma andiamo avanti andiamo un po' di analizzare altre cose interessanti diciamo che questa cosa qua noi ci aspetteremo di farla solo all'appartenza quindi converrebbe mettere in realtà questo if event punto type uguale uguale program allora in questo modo questa sequenza viene eseguita soltanto quando il programma viene salvato all'inizio perché viene da open sim equivale a l'evento di partenza il default event che parte e poi mettiamo l'end ok però è possibile mentre si fa quindi queste sono le opzioni che si fanno al momento della partenza è possibile dirgli di fare qualche cosa dopo un certo intervallo di tempo e questo lo si fa con il comando interrupt quindi qui posso dire tra un secondo fai qualche cosa e allora a questo punto posso farmi un altro blocco dicendo if event punto type uguale uguale credo interrupt then e diciamo che ogni secondo lui fa digiline send lua a ecco e poi deve rimandare di nuovo un altro interrupt 1 per dire di ripetere poi di nuovo all'infinito and ok allora se abbiamo fatto tutto giusto ogni secondo vedete che viene mandato un messaggio a e quindi la nostra scena lampeggia questo è un altro modo un po' più complicato forse troppo complicato ma è importante per vedere che esiste un segnale quindi chi si registra in questo caso questo questo pezzo di questo componente si registra su lua e quindi ogni volta che riceve il messaggio a fa il not della porta a così come volendo si potrebbe fare analogamente che se riceve b invece inverte lo stato di b no? quindi facciamo if event message uguale b facciamo port b uguale not port b ok qui ovviamente non c'è ancora il messaggio b glielo facciamo eseguire nel senso che ogni volta che fa l'interrupt gli facciamo un altro dgline send lua b quindi a questo punto mi aspetterei di vedere anche il b che si accende o si spegne vedete quindi questo è tutto originato dal fatto che qui ho un ho questi ho questo programmino quindi riassumiamo allora la programmazione di un lua controller è che può fare delle azioni a seconda che succedano degli eventi gli eventi sono program quando viene salvato il programma quindi viene reimpostato resettato il codice oppure interrupt quando praticamente c'è un timer questo interrupt in altri linguaggi si chiama timer scatta tra l'altro ci si può anche chiedere il nome dell'interrupt qui posso mettergli anche interrupt e posso dargli un nome a questo timer e quindi quando scatta il timer posso anche sapere il nome del timer che ha scattato poi tra gli altri tipi di eventi ci sono anche quello relativo al fatto che cambi lo stato si accende qualcosa in una delle porte quindi il lua controller permette di capire se si è acceso qualcosa se uno del supporto gli è arrivato un segnale mese cons attivo oppure se si è spento qualcosa per saperne di più su il lua controllers direi lua controllers ok e abbiamo questa interessante pagina cioè mesecons punto net slash lua controller e in questa noi abbiamo fondamentalmente una serie di informazioni utile qui vi faccio vedere ad esempio come in pratica questi sono dei pulsantoni che si trovano e che permettono di accendere le varie porte e poi si possono fare dei mestieri nel senso si può da codice insomma forse sono sia pulsanti che anche visualizzatori se non ricordo in pratica qui fa un corso sull'uva controller vi spiega come accendere o spegnere le varie porte ok poi in realtà si parla del print e il print è quello che abbiamo visto prima quindi permette praticamente di visualizzare sulla finestra di debug quello che vogliamo suggerisce usare il punto punto e poi c'è la possibilità anche di vedere gli input questo qui vedete io l'ho fatto sempre con port ma secondo loro si dovrebbe fare col pin poi qui ci sono degli esempi con cui si può implementare l'end or not e altre porte logiche all'interno di un lua controller poi c'è il concetto di interrupt nell'interrupt vedete che viene fatto partire un interrupt ogni tot secondi anche frazione di secondo e poi gli eventi che abbiamo discusso prima quindi gli eventi abbiamo visto ve l'avevo forse detto a voce c'era l'evento digiline in cui abbiamo l'event channel e l'event message poi abbiamo l'interrupt che permette si può poi fare dei test sull'event punto iiad quindi interrupt id e poi l'off e tra l'altro ecco una cosa che non avevo notato che è possibile sapere quando una porta viene accesa o spenta si può anche conoscere la direzione nel senso se la porta che sta a nord a sud o est o ovest in pratica oltre al nome della porta questo è interessante perché si può anche lavorare in quei termini poi non l'abbiamo visto non lo vediamo in questo in questo video ma esiste la possibilità di avere infinita memoria dentro dentro un lua controller e quindi si può fare mem punto nome di variabile uguale valore e quindi questo rende il lua controller molto potente una cosa che abbiamo accennato altre volte è l'overheating nel senso che se voi fate fare troppa operazione a un lua controller il controller si spegne automaticamente invece il digilines era proprio l'oggetto di questo video dove vi ho fatto vedere che c'è il digilines and sul canale un certo messaggio e poi quando abbiamo un evento di tipo digilines possiamo capire col print quale canale quale messaggio che possono essere trasferiti poi ci sono una serie di cose che in questo momento non dettagliamo per prima di finire il video andiamo soltanto a vedere come ho eseguito quindi qui mettiamo il nuovo time 6000 ok andiamo a rimettere insieme il circuito che avevo distrutto prima quindi mettiamo di nuovo il ok 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 allora adesso questo è stato ripreso vedete che c'è l'ora che evolve quindi questo cos'è si chiama lcd adesso l'ho chiamato lcd quindi ci sarà qualcuno che parla con l'lcd che credo che sia questo vediamo se è vero andiamo andiamo no questo è fa varia ah no sta facendo un lcd ma non è quello che ci interessava no proviamo a vedere se ce l'abbiamo questo qui sulla destra adesso ve lo spiego un attimino questo proprio o meno dunque interrupt 1 quindi lo fa tutta ah eccolo qua pratica adesso lo magari lo rivediamo soltanto in modo riprendiamo tutto ma lo rimettiamo da noi in un modo un po' più organico nel senso che prendiamo il digiline e qui ci mettiamo un lua controller qui per il momento ci mettiamo questo ma diciamo che allora per il momento lasciamo ok ma diciamo che quando questa macchina quindi partiamo da qua if event type uguale uguale program then diciamo che è partito va bene debug è una funzioncina mia che visualizza fa la print con la data corrente l'ora e dice che è partito e poi abbiamo dunque fa semplicemente un interrupt 1 a questo punto faccio un else if e l'else if che a noi interessa è questo qua cioè quando arriva l'interrupt magari abbiamo detto che cancellavo le cose che non usavamo facciamo ecco qua purtroppo è un pochino scomodo editare qua dentro e togliamo tutte queste cose qua ok rifaccio perché troppo qui si suppone che i programmi siano piccolini lo shift questo cancelliamo ok quindi abbiamo soltanto questo ok è un po' più semplice quindi il programma è fondamentalmente questo alla partenza vedete che dice semplicemente che è partito magari togliamo anche il debug ok facciamo proprio una roba semplice semplice togliamo queste righe debug togliamo queste righe togliamo questo quindi alla partenza lui semplicemente dice fammi un interrupt a un secondo e poi quando scatta l'interrupt un secondo dopo che è qua il timer cosa fa? prende il tempo corrente da una funzione che si chiama os.datetable e questa è una funzione di sistema che in sintesi ci ci dice e butta su lcd ma noi magari la mettiamo sul tv che abbiamo messo prima l'ora attuale e questo lo fa tutte le volte quindi stiamo dicendo current time now e dove now è questo qui quindi questo in realtà non serve scusate ma no ok così mi piace di più e togliamo anche questo ok quindi questo è il programma che dovrebbe funzionare quindi lui parte dice fammi interruzione dopo un secondo a questo punto qui c'è una catena if else if quindi se non è un programma se non è la partenza del programma vediamo se è il timer che è scattato fa manda sul tv l'ora corrente data e ora corrente con now e poi si re no imposta fra un secondo e dopo di che farà now now è una funzioncina che c'è qui sopra che prende la data di sistema e poi prende la data di sistema di questa data prende l'ora il minuto il secondo e li formatta dove fmt è una funzioncina che serve per formattare una stringa in modo tale che abbia esattamente due caratteri questo potrebbe se non avete esperienza minima di coding questo può risultare un po' complesso ma non è particolarmente complesso in realtà vediamo a vedere se sta funzionando quindi se sta funzionando direi di sì perché ci sta vincendo 1636 54 55 eccetera se volessimo mettere in italiano che forse è il caso andiamo qua invece di dire current time sono le ore sono le ore vedete che ho messo una pipe nel senso una stanghetta verticale questa stanghetta verticale serve per andare a capo quindi sono le ore 1637 26 se volessi fare una formattazione diversa potrei mettere ad esempio sono le e andare a capo qua faccio stanghetta ore now che mi aspetto che qui ci sia scritto sono le a capo ore ora io direi che come primissima esposizione alla digiline dovremmo averla fatta quindi abbiamo visto un modo un modo fondamentale che ci permette di mandare dei segnali alla tv che sono questi led o di mandare dei segnali a un altro pezzo del circuito che deve essere collegato con il digiline il pezzo di circuito ricevente in questo caso questo deve essere programmato per ascoltare un determinato tipo di eventi quindi in particolare l'evento digiline e di questo rispondere solo al canale lua e a questo punto può intercettare il messaggio per capire cosa fare come reagire a quel segnale ok quindi io direi che per ora va bene così buona giornata grazie